Da alcuni giorni nel negozio oggetti è presente questo deltaplano pony di diamante che nasconde un segreto, infatti ogni volta che andiamo a schierare questo deltaplano possiamo benissimo vedere che va a spellere una vecchia arma, ad esempio adesso che lo rischieriamo va a spellere lo scar che appunto non c'è più in gioco, adesso invece un cecchino e poi può spellere anche il vecchio pompa, ad esempio adesso ha estratto il tattico e adesso vediamo un po' di nuovo il tattico ma comunque se lo andiamo a rischierare tantissime volte va a spellere vecchie armi come ad esempio il vecchio pompa del nonno e ricordo che il vecchio pompa del nonno è stato anche mostrato da fortnite in una specie di trailer che è rilasciato non molto tempo fa e potrebbe tornare nel corso di questa stagione, saluto gli ultimi iscritti al canale se sei arrivato a questo punto mi raccomando iscriviti